Che cosa una donna può trovare in un corso KMG? Il problema dell'approccio alle donne nasce dal fatto che molto spesso le donne, e per giusti motivi, hanno paura di allenarsi con gli uomini. Hanno paura non solo di quello che è un futuro fisico, ma hanno paura anche di rallentare la classe. Ecco, da questo punto di vista, la Kramaga Global ha dei percorsi specifici. Ogni istruttore di base viene formato in volontà di poter lavorare anche con le donne e poter far lavorare bene le donne in cui ci sono anche gli uomini. Su che cos'è che puntiamo nella KMG rispetto alle donne nei nostri corsi di Kramagaga? Del far sì che le donne sì lavorino anche tra di loro, ma soprattutto lavorino con gli uomini. Perché? Perché una donna che si abitua ad allenarsi anche con gli uomini, avrà una sicurezza che non è paragonabile a quella di una donna che si allena solo con le donne. Allenarsi con gli uomini significa sapere, avere la certezza che quello che fai ha delle chance. Funziona davvero anche a differenza di stazza e di corporatura. E questo è il goal, uscire più sicure oltre che più allenate. E questo è tutto, dimmi che ne pensi, ti interessano soprattutto i commenti di voi donne? Scrivi i commenti qua sotto il video e se ti interessano questi video, se ti piace, dallo stile che utilizziamo, iscriviti a questo canale e clicca sulla campanellina in modo tale da essere sempre aggiornata o aggiornato ogni volta che carico un nuovo video. Niente, questo video mi sono incasinato con il maschile e femminile, ma che non si capisca. Ciao, buona piccola e buona pratica. Non sento la mia risata. Si sente, ma va benissimo. Non sento la mia risata.